oggi è sabato 8 febbraio 2020 nessun giorno un giorno qualunque ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno la storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato 8 febbraio 1848 in seguito ai moti promossi dalle classi borghesi che reclamano una maggiore partecipazione alla vita pubblica alle 15 e 30 il re di sardegna carlo alberto fa affiggere a torino un editto con esso espone una dichiarazione di principi in 14 punti con la quale annuncia la prossima stesura dello statuto fondamentale della monarchia di savoia adottato il successivo 4 marzo dal nome del sovrano sarà conosciuto come statuto albertino nel preambolo firmato dallo stesso re lo statuto è definito come legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia con la nascita del regno d'italia lo statuto ne diverrà la legge fondamentale tale rimarrà anche durante il periodo fascista anche se essendo una costituzione flessibile sarà di fatto svuotato dalla sua componente di garanzie parlamentari con una serie di leggi ordinarie dopo la liberazione il referendum che stabilisce la trasformazione dello stato in una repubblica e l'elezione dell'assemblea costituente lo statuto cessa definitivamente i propri effetti dopo un secolo il primo gennaio 1948 giorno di entrata in vigore della costituzione della repubblica italiana lo statuto si caratterizza come una regolamentazione concessa per la benevola generosità del sovrano che alla concessione di regole parlamentari unisce la velata minaccia di non procedere oltre se i popoli non fossero stati degni delle sue manifestazioni di apertura in questo modo comunque carlo alberto trova la chiave per tranquillizzare tanto i liberali quanto i democratici sulla temperanza del proprio potere assoluto da parte della monarchia ogni giorno può lasciare un segno indelebile viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale secondo uno studio dell'iowa state university 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi buona giornata